Eccoci qua, eccoci in diretta, buonasera a tutte e tutti, intanto nel frattempo vedo che piano piano cominciano a connettersi le persone, siamo qui per la quinta puntata di A2x2, il format di Italia che cambia, che approfondisce un po' le varie tematiche che il giornale affronta quotidianamente e abbiamo il piacere di presentarvi insomma in queste dirette, un punto di vista ulteriore rispetto ai vari stimoli che vi forniamo quotidianamente col nostro giornale. Oggi per il quinto appuntamento, che è anche l'ultimo appuntamento estivo prima della pausa di agosto, ci vedremo a settembre, abbiamo una puntata molto molto interessante perché in questi ultimi mesi si è parlato tanto del tema di salute, non solo in questi ultimi mesi, è della verità, insomma è un tema caldo che a noi ci piace anche fornire altri punti di vista rispetto ai temi, alle tematiche che vengono affrontate quotidianamente e dunque per questa quinta puntata, per parlare di salute abbiamo invitato Federico Palla e Milena Semeroni della rete europea Salus, che fra poco li vedrete su questo schermo che è un'iniziativa di cui tagliare i tambi è partner, nata dal, insomma anche vi racconteranno voi Federico e Milena dall'associazione Lumen e questa è un'iniziativa di stampo diciamo europeo che raduna diversi gruppi di professionisti legati al mondo della salute direttamente e indirettamente, ci sono organizzazioni no profit, ci sono aziende, ci sono testate giornalistiche che appoggiano questa rete, il cui obiettivo fondamentale tra i tanti è quello di fornire un diverso approccio al mondo della salute, dunque approfondire un po' questo tema e allarcarlo, integrando anche altri aspetti che spesso non vengono considerati quando si parla di salute, soprattutto approfondendo il legame profondo che esiste tra la nostra salute umana e la salute del pianeta e degli ecosistemi, spesso si parla di salute in senso non integrato con altri mondi che ci circondano e secondo noi è un po' un limite che va approfondito intanto ecco Federico, vi presento Federico e Milena, ciao Federico e ciao Milena, benvenuti ciao, siamo molto felici di avervi qui con noi e ho fatto una brevissima introduzione ma mi tolgo subito per darvi la parola e vi chiederei insomma di presentarvi, anche voi come oltre alla rete Sallus che ha accennato, anche voi come esseri umani diciamo e un po' di dirci e di raccontarci cos'è la rete, come è nata e insomma una vostra presentazione chi vuole dei due può andare e grazie di essere qui di nuovo prima le donne grazie, grazie a Paolo, sono Milena Simeoni, faccio la naturopata, sono la direttrice didattica di Lumen ma soprattutto sono una mamma desiderosa di lasciare questo pianeta alle generazioni future in una condizione più vivibile e questo mi spinge ogni giorno di più a fare il meglio di quello che faccio e mi auguro che tutti quanti insieme collaborando siamo in grado di di attivare quelle strategie, quelle modalità di vita che proteggono non solo noi ma l'ambiente e viceversa proteggendo l'ambiente proteggiamo noi stessi per lasciare un tesoro alle generazioni future. Grazie. A te Federico. Federico ci senti? Sarò meno poetico, sarò meno poetico di Milena, mi chiamo Federico Palla e ho la fortuna di abitare nell'ecovillaggio Lumen che questa signora che si è presentata prima di me ha fondato nel 92 nella provincia di Piacenza insieme a suo marito Davide Pirovano quando erano ragazzi sognatori, adesso sono ancora sognatori, ancora ragazzi dentro e stanno invecchiando in salute e stanno dando un grande esempio. Io mi sono trasferito nell'ecovillaggio nel 2012 insieme a mia moglie, adesso abbiamo due bambine e mi occupo nell'ecovillaggio, mi sono occupato di diverse attività, principalmente in questo momento sono nel consiglio direttivo dell'associazione Lumen che è una PS che è nata da questa esperienza comunitaria e poi nella collaborazione con Milena dall'anno scorso mi sto occupando quasi prevalentemente della rete Salus che poi è un protagonista di questa diretta per cui è nata dalla joint venture tra me e Milena e altri nostri amici che ci stanno dando una grande mano a portarla a veleggiare verso il nostro obiettivo europeo tra cui appunto quello dell'invecchiamento attivo che è uno di quelli della longevità sana che ci sta contraddistinguendo in questo periodo che stiamo cercando di spingere avanti. Infatti sì, all'inizio quando vi ho presentato, infatti non ho approfondito che oggi parleremo insomma di un altro, oltre alla salute c'è anche un altro tema da approfondire e da guardare da altri punti di vista che è proprio quello della longevità, ci arriveremo fra poco. Io vi chiedo intanto, chi legge Italia che cambia probabilmente vi conosce perché abbiamo presentato o introdotto che siamo parte della vostra rete, però se ci spiegate cos'è la rete europea Salus, cosa fate, ci presentate questo aspetto. Guarda, l'anno scorso quando abbiamo fatto la prima iniziativa internazionale a Bruxelles, al Parlamento Europeo, questa conferenza che si chiamava appunto Salus, Focusing on Health Promotion, abbiamo invitato diverse organizzazioni europee e italiane a partecipare con questo grande sogno di riuscire a fare un cambio di paradigma a livello europeo e mettere al centro la promozione della salute e la sostenibilità ambientale per fare questa grande alleanza. E da lì abbiamo appunto conosciuto meglio alcune organizzazioni organizzazioni di diverso tipo. Quindi a giugno abbiamo proposto di fare questa rete europea che è partita con poco più di 20 organizzazioni e attualmente siamo 43 organizzazioni in 10 paesi europei diversi, quindi è cresciuta poi nel corso dei mesi e all'interno, come ti dicevo, organizzazioni di diverso tipo. Abbiamo organizzazioni di medici, per esempio ISDE, Medici per l'Ambiente, che è stato tra i primi aderenti, l'AMPAS, che è un'altra organizzazione di medici, così come organizzazioni che si occupano di sport come lo XEN a livello nazionale, sindacati olistici come SINAPE o SIDOS, ci sono organizzazioni che si occupano di naturopatia a livello europeo, abbiamo per esempio delle reti francesi di scuole, chi si occupano di naturopatia, organizzazioni tedesche, cioè si è creata questa rete variegata e anzi noi la vorremmo ancora più variegata, perché uno dei punti di forza che noi stiamo sostenendo è che ci vuole una trasversalità, cioè se vogliamo raggiungere dei grandi obiettivi di sostenibilità ambientale, di promozione della salute, serve una grande alleanza tra diverse parti della società civile e quindi noi vogliamo allargarla ancora di più e speriamo che qualcuno anche dei vostri affezionati che ascoltano questa diretta si incuriosiscano, vadano sul nostro sito www.salusnetwork.eu e se hanno un'organizzazione, un'associazione, ma anche un ente profit che però risponde alle finalità che ti ho detto, possono aderire, non c'è nessun costo, c'è solo l'impegno a far crescere questo grande sogno, a far crescere questi obiettivi che abbiamo a livello europeo e anche nazionale, poi magari nel corso della diretta ti spiego nel concreto di che cosa ci stiamo occupando. Grazie Federico, e volevo chiedere anche a Milena se ci può fare invece un approfondimento su cos'è Lumen, perché avete accennato insomma alla spinta di Lumen per la nascita di questa rete e magari presentiamo anche Lumen? Allora, Lumen è tante cose e queste cose si sono sviluppate come dei semi spontanei che già c'erano nella Terra e semplicemente avevano bisogno di un po' di acqua e di sole e quindi oggi Lumen è qualcosa di molto diverso da quello che abbiamo pensato noi, grazie a tutti quelli che sono arrivati, hanno pensato e hanno lavorato insieme a noi e sono sicura che è qualcosa di diverso da quello che sarà domani. Oggi è una rete, una rete di enti che lavora insieme, che vive insieme, che fa volontarato insieme, che fa esperienze insieme. È un ecovillaggio dove viviamo circa in 60, dove i bambini nascono in casa, dove le mamme allattano ancora in cortile, dove se uno non sta bene ha bisogno di un abbraccio, di un sorriso, ma anche di essere ascoltato nel suo pianto c'è qualcuno, quindi dove c'è solidarietà, dove si lavora in modo impegnato e in modo continuo per vivere nella trasparenza, nella solidarietà con dei valori che oggi forse vengono sottovalutati, ma hanno a che fare, sia con la salute che con l'ambiente, perché quando metto al centro dei valori mi comporto in un altro modo. Abbiamo un'associazione che oggi ancora gestisce la scuola di naturopatia, la scuola di cucina, la scuola di wellness, diciamo così. Abbiamo anche, abbiamo costruito nel tempo anche una cooperativa immobiliare, una proprietà indivisa. Abbiamo costruito una cooperativa di lavoro, perché lavoriamo, insomma abbiamo fatto tante cose, quindi Lumen è oggi una rete di tante attività e fondamentalmente una comunità intenzionale che cerca di promuovere salute in vari modi. Spero di essere stata chiara. Grazie Milena. Floriana ci chiede dove siete, c'è un commento, magari lo diciamo subito, cogliamo l'occasione. Siamo in provincia di Piacenza, a San Pietro in Cerro, abbiamo un cascinale, siamo in un cascinale agricolo che abbiamo piano piano ristrutturato noi e in Lumen si può respirare lo sforzo di chi ci vive e di chi è passato, di tutti i volontari che hanno fatto grande opera all'interno di Lumen, dalla costruzione della piscina alla costruzione, alla cura del giardino, quindi è veramente casa, per me è proprio casa, indipendentemente dal fatto che siamo in pianura padana. Ecco, per me è un piccolo paradiso. Grazie Milena. Intanto volevo mostrare anche il sito di Salus che prima Federico aveva introdotto. Ricordo, salusnetwork.eu se volete anche più informazioni rispetto a quello che otterrete in questa diretta. Adesso passerei un po' al tema centrale di questa quinta puntata di A Tu per Tu, appunto la longevità. Io da esterno rispetto a questo tema, sono cresciuto anche in contesti universitari, lavorato in storia contemporanea, insomma. Mi ricordo proprio che una delle grandi conquiste dell'essere umano negli ultimi secoli, soprattutto negli ultimi centocinquant'anni, indicativamente, è proprio la conquista di una longevità maggiore. Viviamo più a lungo, questo spesso è sinonimo proprio di benessere, di progresso, passatemi un po' il termine, no? Però è vero che viviamo più a lungo, ma non è vero che questo allungamento dell'età anagrafica sia poi, faccia poi sinonimo e faccia il paio con la longevità. Dunque, uno degli obiettivi principali che ci poniamo, insomma, con questa diretta è proprio, non è vero che la longevità è sinonimo di buona salute, non è sempre vero. Questo volevo lanciarvi come domanda e se avete dei dati, cosa ci raccontano i dati in tal senso? Siamo più longevi, è vero, ma siamo più in buona salute o no? Allora, sì, è proprio come dici tu Paolo, siamo più longevi e sicuramente è una conquista, bisogna anche guardare dei dati, no? Che comunque quando si fa un po' statistica a volte ci sono delle cose che sono confuse perché sicuramente siamo più longevi, ma oggi anche la natalità è molto bassa e quindi questo chiaramente ci mostra anche un quadro differente. Quello che si osserva è, adesso io mi ero tirata giù dei dati che non so quanto possono essere interessanti, ma quando si parla di longevità e un aumento si parla di un numero molto grande, per quelli sessantenni e oltre si parla di una distanza da 2015 di 900 milioni a un ipotetico 2050 di 2 miliardi. Questi sono i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, per quanto riguarda quelli di 80 o più anni si passa dal 2018 a 125 milioni a 430 milioni entro il 2050. Sono dati però ipotetici, perché invece ci sono altri studi che non affermano questa cosa, ma che descrivono per esempio che siamo arrivati a un apice e che non saremo in grado di andare oltre. Questo per esempio, tanto per darvi magari uno stimolo, sapete la popolazione di Okinawa, che è una delle cinque zone blu al mondo, oggi fa proprio vedere che la loro longevità, molto veramente, dopo magari gli diamo qualche dato e la possiamo descrivere anche più dettagliatamente, in salute, purtroppo è cominciata a non essere più presente nelle generazioni più giovani. Cosa vuol dire? Che vivono più a lungo i nonni dei nipoti, ma mi ero tirata giù un dato solo su un cambiamento, se lo trovo, perché mi sono scritta quando devo fare una cosa scrivo 200 cose, ma per esempio pensiamo solo all'assunzione di carne che fino a prima dell'88 era di 3 grammi giornalieri, è passata dall'88 in avanti a 90 grammi giornalieri. Oggi là i nipoti vivono meglio dei nonni e quindi quando parliamo di differenza tra longevità e longevità sana e quindi dire che abbiamo diritto di morire in salute, con una dignità nella morte, che è molto di più che parlare di longevità sana, cioè che se ci penso mi commuovo, l'idea di poter salutare i miei cari e loro sono lì mentre io me ne sto andando. Una longevità sana porta a una morte con dignità. Oggi noi possiamo vedere una forbice che si allarga sempre di più tra quella che è l'aumento ipotetico, quindi per quello che vi ho anche detto, di longevità nei prossimi anni, perché comunque dobbiamo ricordare che abbiamo sempre una riduzione di nuovi nati e abbiamo una forbice che aumenta tra quelli che sono longevi, scusate, l'aumento di longevità e l'aumento di longevità sana, perché invece è discendente la longevità sana e quindi nell'ipotesi che la longevità continui a aumentare, dobbiamo continuare a preoccuparci, cominciare a preoccuparci del fatto che invece la longevità in salute continua a scendere e questo dovrebbe essere il centro dell'attenzione, perché noi abbiamo diritto di vivere bene, di vivere bene, di continuare a costruire salute dentro e fuori di noi, anche perché se vogliamo fare un regalo alle generazioni future, oltre all'ambiente, è che noi genitori rimaniamo in salute, è il regalo più grande che vorrei fare ai miei figli. Mi incuriosisce molto questo, ci hai citato qualche dato, ma intanto ti chiederei anche un'altra cosa che mi ha incuriosito sull'intervento, è un attimo approfondire secondo te il perché c'è questo diciamo aumento di longevità, ma che non fa il paio con il tema della salute, ci sono dei motivi, oppure variano a seconda delle zone del mondo, ci potresti dire qualcosa in più su questo? Sì, possiamo prendere proprio a campione, visto che abbiamo citato Okinawa, perché anche noi ne abbiamo una di zona longeva che è la Sardegna, però Okinawa è stata fonte di mio grande interesse insomma, e quello che possiamo vedere è che loro per esempio avevano, perché dobbiamo dire avevano, perché la contaminazione con le abitudini che non sono quelle loro tradizionali sicuramente non hanno aiutato, come possiamo ribadire, muoiono prima i nipoti dei nonni e questo, quindi quello che è interessante è pensare che loro hanno un BMI più basso, hanno un consumo di vegetali molto maggiore, un consumo di proteine animali molto minore, nello specifico quella quota minima di proteine animali è maggiore per quanto riguarda il pesce è minore per quanto riguarda le carni, hanno un consumo di cereali integrali, avevano un consumo di cereali integrali e di legumi completamente, molto più alto del nostro, alcuni dati li ho anche, per esempio si parlava di 1780 calorie giornaliere contro le 3100 degli USA e quindi parliamo proprio di una condizione completamente diversa di quotidianità, ma non solo di questo, era una popolazione che coltivava il suo orto, era una popolazione con una forte tensione verso la spiritualità e tutte queste cose oggi noi siamo in grado di vedere che fanno bene alla salute e alla vita, è come dire che dovremmo cominciare a pensare ogni mattina quando ci alziamo che cosa posso fare oggi io per nutrire la mia longevità sana, le differenze noi se pensiamo a il fumo, prendiamo il fumo a quanto non solo, adesso abbiamo visto tutto questo grande situazione, ma il fumo, il fumo sia quello che fa l'individuo, che quello passivo fa tantissimi morti l'anno e chiaramente modifica la mia reazione alla vita, perché prima quando provo a fare un salto Paolo permettimi un po' filosofico, quando ti dicevo per me l'Humen è un paradiso, però non è un paradiso dove non ci sono ostacoli, non è la verità, anzi forse all'interno della comunità gli ostacoli ci sono di più e senza forse, per una questione di rapporti numerici, ma che cosa abbiamo costruito con delle buone pratiche tutti i giorni? Abbiamo costruito la capacità di reagire allo stimolo differente, quando io tutti i giorni ho delle buone pratiche alimentari, motorie, spirituali e attivo esattamente questa cosa, costruisco la mia capacità di reagire alla vita una capacità migliore e quindi anche se arriva il disturbo io avrò una reazione di salute maggiore e quindi una capacità di difendermi come direi, come nel comportamento, in un modo più equilibrato, così nel corpo in un modo più equilibrato. Spero di averti risposto Paolo. No, no, mi hai detto, mi hai risposto e solo una curiosità, se posso chiederti della Sardegna, se non so questa, perché mi incuriosisce insomma che è una, avevo già sentito questa notizia della longevità sarda, secondo te cosa ne pensi a tal proposito anche per rimanere nei confini nazionali. Allora, io penso che, non ho studiato i dati e quindi te le do, ti posso fare una mia ragione? Sì, sì, un pensiero tuo. Sicuramente una delle cose che non ti ho detto e che dovevo dire assolutamente, assolutamente ti dovevo dire che anche il clima faceva la differenza sia a Okinawa che oggi in pianura padana con tutto quello che è successo, giusto? Così direi per la Sardegna, ma anche se pensiamo al prodotto di un allevatore di pecora che però la sua pecora la porta in giro, che mangia le erbe spontanee, queste erbe spontanee sono ricche di Omega 3, cioè è chiaro che è tutto diverso, un movimento diverso, ma anche un modello sociale differente, perché questo non è trascurabile sicuramente l'aria, l'acqua e le abitudini che come prima era nel meridione, perché non dobbiamo dimenticare che la dieta mediterranea è fortemente protettiva, quando però si parla di dieta mediterranea, non si parla di dieta perché tutti pensano di fare la dieta mediterranea, i parametri sono molto simili a quelli che stavo dicendo prima e quindi sicuramente come il meridione anche loro mangiavano più prodotti vicino alla natura. Poi dati più specifici, mi dispiace Paolo, non li ho approfonditi, anche se mi hai dato uno spunto e lo farò. Sì, no, non era altro per il dato, ma mi hai risposto perfettamente, nel senso pensavo che ci fosse anche un link un collegamento con fattori ambientali, climatici, insomma è proprio quello che volevo capire perciò non preoccuparti per i dati specifici, è spiegato molto bene anche un po' la filosofia di come Salus si muove cioè non vedere la medicina come un corpo estraneo, ma vederla integrata con molti aspetti dell'esistente che è anche il clima, come ci si nutre, come ci comportiamo ora dopo ora. E questo lo fate anche... Sicuramente. Vi introduco quello che volevo chiedervi perché tutto questo che fino a ora ci siamo detti lo fate a livello europeo e da tempo cercate un po' di insistere su... mi sembra che tutti capite che una delle... una cosa che chiedete un po' a livello... da organizzazioni, da strutture di tutti i tipi sia nazionali che internazionali, delle azioni più coraggiose in tal senso, no? Cioè nel senso iniziamo a diffondere una consapevolezza maggiore e ad avere più coraggio con riguardo questo tema della salute. Dunque mi chiederei cosa proprio promosso in tal senso e quali sono gli stimoli che desiderate affrontare e diffondere e è un cenno dato che se è una rete europea è quello che sta facendo l'Unione Europea in questo periodo. Ok. Ti rispondo io Paolo Il grande insegnamento di quello di cui accennava prima Milena delle blue zone, quindi queste zone di invecchiamento straordinario in termini positivi è sicuramente l'effetto combinato di vari fattori lei ne ha citati alcuni quello che è un ostacolo invece che noi vediamo spesso nelle politiche di promozione della salute è che si va a settori e quindi non c'è quasi mai un effetto combinato di diversi interventi e noi questo stiamo cercando di portare avanti molto concretamente una delle proposte che porteremo appena al Parlamento e quindi una delle proposte che porteremo è un'iniziativa dei cittadini europei cioè una grande raccolta firme europea che avrà degli stimoli trasversali nei confronti della Commissione europea quindi su quelle che sono le politiche su cui l'Europa può fare qualcosa e sono su diversi temi adesso te ne accenno alcuni per darti un'idea e ti dico cosa poi l'Unione Europea sta facendo su questo uno dei temi su cui vogliamo puntare è quello del cibo sano e quindi riuscire a rafforzare una politica europea che già è in atto si chiama From Farm to Fork quindi dalla fattoria alla forchetta ed è una strategia che punta ad un allargamento per esempio dell'agricoltura biologica noi ci sposiamo molto per esempio la posizione che sta tenendo Greenpeace su questo tema e vogliamo inserire questa proposta all'interno della ICE perché è molto importante che la PAC la cosiddetta politica agricola comunitaria venga riformata e quasi stravolta perché adesso per darvi un esempio il 70% dei terreni agricoli dell'Unione Europea è adibito a allevamento di animali o è funzionale all'allevamento di animali questo è il 70% e il 50% del bilancio dell'Unione Europea è finalizzato a tale finalità se andiamo a vedere quello che ha detto prima Milena rispetto al consumo di carne è ovvio che c'è qualcosa che non va c'è un investimento che va fatto in un altro senso va fatto un rinnovamento della PAC vanno rafforzati i piccoli agricoltori sostenibili va rafforzata l'agricoltura a chilometro zero va rafforzata un'agricoltura che crea salute che genera salute sia per l'essere umano che per gli animali che per l'ambiente e quindi questo sarà sicuramente un tema da trattare e su cui vogliamo spingere l'Unione Europea che ha una competenza importante ad agire un altro tema per esempio è quello del consumo consapevole quindi le etichettature vogliamo che sia chiarissimo al consumatore europeo quando compra qualcosa dal supermercato qual è l'effetto sulla sua salute sul benessere degli animali e sull'ambiente di quel cibo e deve essere molto sintetico e chiaro quindi un alimento che arriva da un allevamento intensivo deve avere un'etichettatura che evidenzia chiaramente sia gli effetti negativi sulla salute della persona che va a mangiarlo sia gli effetti negativi sull'ambiente che sono dimostrati questa etichettatura per esempio è un tema anche questo caldo è un tema su cui l'Unione Europea ha competenze a livello europeo c'è già stata una ICE sul NutriScore che è un sistema di etichettatura che è già in uso in Francia che però ha solo una valenza nutrizionale noi invece vogliamo mettere inserire anche questo valore etico e ambientale che secondo noi è molto importante sempre per tenere quella trasversalità di cui dicevamo prima non deve essere solo un aspetto ma il consumatore deve vedere nel complesso quando acquista che effetti ha quel cibo che sta acquistando poi ce ne sono altri adesso possiamo parlare per esempio di vita sociale Milena ha spiegato che noi viviamo in una comunità intenzionale in un ecovillaggio ecco sarebbe molto interessante che a livello europeo si promuovesse questo stile di vita comunitario perché fa bene perché fa bene alla salute perché fa invecchiamento attivo su questo tema questo esula in questo momento da Salus ma Lumen insieme alla Rive che è la rete italiana villaggi ecologici al Conacreis e alla rete italiana co-housing ha fatto una proposta al Parlamento europeo per il riconoscimento delle comunità intenzionali e questo riconoscimento sarebbe il primo in Europa perché non esiste una legge a livello europeo di riconoscimento di queste realtà ma queste realtà sono molto interessanti soprattutto per la questione dell'invecchiamento attivo perché ci sono tanti co-housing che stanno partendo per esempio con persone che sono in pensione sono già in un'età avanzata e che vedono quella prospettiva di socialità molto interessante per la loro qualità della vita C'è caduto Federico No, aggiungiamo pure rispetto a quello che stava dicendo Volevo aggiungerti una cosa Vai, vai sta tornando un secondo però intanto vai tu Vai, vai, vai Paolo, fai Ok Ecco, ti vedo Perché volevo solo aggiungere quando lui parlava Sì, vai Questo cambio di paradigma Paolo che abbiamo proposto con Salus e che secondo me voi rappresentate benissimo io sono molto contenta che voi siete partecipi all'interno di questo progetto è che sono delle macro aree che devono essere comprese perché poi sono cose banali a volte in realtà per cercare un nuovo equilibrio dobbiamo ridurre degli eccessi e in qualche modo quindi contenerli un pochino e nutrire, far crescere il piccolo si dice cioè contengo il grande faccio crescere il piccolo noi vogliamo quindi affiancare a quello che è grande socialmente oggi e per esempio la cura la promozione della salute promozione della salute il nostro piccolo di cui dobbiamo curarci e far crescere in modo importante e cerchiamo di fare in modo che sia affiancata in tutte le fasce della vita in tutte le modalità in tutti non so nell'ambiente scolastico all'interno di un ospizio per anziani di un ricovero per anziani nelle mense aziendali all'interno dei centri benessere cioè una promozione della salute che diventi un fattore proprio di quelli che si imparano a imprima elementare il secondo punto non vedo più Paolo io però eccomi è normale? ci sono ci sono eccoti eccoti Paolo vai mi stavi sentendo? sì sì molto bene mi stavi sentendo? sì scusa vai il secondo piccolo di cui curarsi è la visione d'insieme di cui stava parlando Federico cioè noi siamo abbiamo un modello riduzionista e come tutte le cose ha un pro e un contro se noi lo completiamo con la visione d'insieme in realtà abbiamo due modi di guardare alla cosa e quindi possiamo studiare il piccolo senza perdere di vista l'insieme e possiamo studiare l'insieme senza di perdere di vista il piccolo il terzo grande cambio di paradigma è connettere mettere in relazione metterli lì a braccetto economia che è il perno di moltissimi movimenti con l'etica perché un'etica che affianca l'economia ci permetterà di avere una visione circolare e quindi di non compiere quell'azione piccola perché vantaggiosa ma magari svantaggiosa per i nostri figli che verranno domani e quindi questi sono i tre cardini pratici che poi si declinano in vari modi a seconda di qual è la trattativa che stanno alla base del cambio di paradigma che Salus propone grazie Milena a te mi aggancio anche a quello che Federico ci aveva iniziato a fare un po' degli esempi su come si muove l'Unione Europea e quello che succede in ambito europeo prima Giulia ci scriveva speriamo che cambi qualcosa no? e spesso noi ne siamo un po' portatori di questa sensazione c'è spesso la sensazione che non stia cambiando nulla ma noi per esempio invece girando per l'Italia di realtà che stanno mettendo in campo un cambiamento proattivo in molti settori ne vediamo non riusciamo a stare dietro per quante ce ne sono dunque vi volevo chiedere veramente su questi temi che stiamo approfondendo Federico sta cambiando sta cambiando qualcosa ci sono iniziato a accennare un po' di cose ma com'è la situazione? posso? certo dal mio punto di vista sicuramente sta cambiando qualcosa non è diciamo percepito da tutti i cittadini noi abbiamo una posizione privilegiata perché siamo come organizzazione iscritta al Transparency Register dell'Unione Europea riceviamo aggiornamenti su tutto quello che si muove a livello europeo e vediamo per esempio questo Green Deal di cui si è parlato comunque parecchio come si sta realizzando e ci sono delle cose interessanti quindi ci sono dei punti di appoggio adesso vi faccio un esempio c'è una strategia che si chiama Biodiversità 2030 che è una strategia volta ad allargare tutta la fascia di biodiversità le foreste le aree marine protette e riuscire a raggiungere per esempio il 30% delle zone protette di tutto quello che è il territorio marino e il territorio forestale riuscire a ridurre del 50% i pesticidi riuscire a ridurre del 20% i fertilizzanti entro il 2030 sono obiettivi dal nostro punto di vista importanti noi vogliamo fare di più abbiamo bisogno anche con questa ICE di far sentire all'Unione Europea che sta andando in una direzione giusta e che deve essere ancora più coraggiosa deve esserci una spinta dal basso affinché ci sia una vera rivoluzione un vero cambio di direzione che si costruisce ognuno con le proprie scelte quotidiane ma non dobbiamo dimenticare che abbiamo anche questo diritto dovere come cittadini europei di far sì che le istituzioni europee vadano nella direzione che noi vogliamo e quindi noi dobbiamo tenere sempre questo doppio binario tra quello che è la concretezza dell'impegno quotidiano che ciascuno di noi porta avanti e quello che è la politica europea che si costruisce anche attraverso queste iniziative dal basso anche attraverso le petizioni anche attraverso la spinta e la pressione che noi cittadini e organizzazioni possiamo fare su queste istituzioni che si stanno aprendo a delle prospettive interessanti ma noi dobbiamo fare la differenza eh sì perché poi alla fine il cambiamento insomma parte anche da scelte soprattutto individuali e di responsabilità individuale perciò è vero Milena vorrei aggiungere una cosa vedevo scusami mi piace Italia che cambia è un titolo un nome molto propositivo io comprendo Giorgia giusto che ha fatto Giorgia avevamo detto la signora che ha messo il commento Giulia si chiama Giorgia ho detto giusto Giulia 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 scusa ecco infatti Giulia la comprendo profondamente perché perché anch'io vorrei tutto ieri no e c'è anche una sorta di stanchezza perché c'è chi magari da tanti anni fa una serie di cose e a volte ci si scoraggia e quindi Giulia ti comprendo profondamente però mi piace di più l'idea di Italia che cambia perché sono convinta di due cose uno che là dove portiamo la nostra attenzione lava la nostra energia e quindi se riesco ad essere ancora possibilista riesco ad avere la forza per cercare di attivarmi a trovare nuove soluzioni non so io sono mamma di tre figli e a volte non è che si trova subito lo stimolo giusto per essere dei buoni educatori però quando siamo motivati diciamo vabbè possiamo pensare che l'altro potrebbe anche fare lui qualcosa in più ma siccome non lo sta facendo ci attiviamo per trovare una soluzione migliore per fare in modo che le cose cambino e ci mettiamo del nostro e questa è la prima cosa seconda è che sono fermamente convinta che quando cambieremo in tanti fuori sarà diverso Gandhi diceva si tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo e penso che sia un'ottica importantissima che cambia un altro paradigma che passiamo da vittime a responsabili e così ognuno di noi può cominciare a pensare che cosa lui può fare quello che a me fa male molto in questo momento è che confrontiamo le informazioni io posso anche dire delle stupidaggini non è questo ma se riusciamo a confrontarci in un modo civile e in un modo comprensivo questo non vuol dire che io lo faccio sempre perché sono una che si arrabbia e con Federico noi abbiamo scontri però poi mi prendo la responsabilità del fatto che mi sono arrabbiata e che capita ma il tentativo di fare diverso e di lavorare tutti insieme per una cosa più armonica perché la salute non è solo quel tipo di cibo quel tipo di ambiente ma è anche un tipo di relazioni e secondo me oggi da questo punto di vista siamo scaduti moltissimo e la separazione non è salute il motto di Salus è compone et collabora che vuole essere proprio un sostitutivo un movimento diverso dal divide e libera grazie e mi mi faceva molto riflettere anche quello che diceva prima Federico faccio una considerazione io che mi sta a cuore penso spesso al tema degli anziani persone anziane al tema un po' prima accennava al fatto che ci sono molte iniziative l'avevo letto anch'io che vanno in direzione di quando facevate il discorso sul discorso di comunità e il discorso dell'anzianità quanto potrebbe aiutare una vita di comunità a far sentire meno solitudine in un periodo della vita in cui la solitudine alla S maiuscola si fa sentire fortemente ed è bello anche vedere siamo ai primordi ovviamente agli inizi però quanto si sta cercando anche di unire ci sono degli esperimenti in Italia dove delle scuole primarie cercano di unire il mondo scolastico con il mondo degli anziani proprio per cercare di appunto di trasformare anche il discorso della longevità in una buona vita di cui sicuramente la socialità è un elemento fondamentale su questo è arrivato prima un commento di Sara che vi leggo che parlava un po' degli spazi esterni in questo periodo immagino nelle scuole dei miei figli primaria e secondaria di primo grado hanno organizzato gli spazi con i vari distanziamenti peccato che nessuno abbia considerato gli spazi esterni grande fortuna per chi li ha e che li può sfruttare volevo dire solo a Sara che in questo periodo ci sono molte spinte contrastanti soprattutto dopo il periodo storico post pandemia che stiamo vivendo però ci sono è anche notizia di pochi giorni fa che la regione Lazio ha approvato una legge sull'outdoor education per quanto riguarda le scuole e sull'educazione all'aperto dunque anche dalle istituzioni che spesso ai noi sono un po' in ritardo rispetto ai cambiamenti che avvengono all'interno della società cominciano comunque a vedersi dei segnali interessanti una legge regionale sulla scuola all'aperto era sicuramente un qualcosa di auspicabile e importante dunque veniamo da un viaggio dove approfondiamo il mondo della scuola e anche lì non è vero che non si muove nulla insomma ci sono molte iniziative che vanno in una direzione e incontro alcuni temi che abbiamo discusso adesso mi faceva piacere dirvelo e a Milena e Federico proseguirei abbiamo accennato un po' questo è stato invece un periodo di distanziamento cioè veniamo fuori da un periodo in cui il distanziamento era un po' sulla bocca di tutti purtroppo e noi lo sappiamo e quando parliamo della pandemia del coronavirus ultimamente c'è c'è molto allarme perché sembra in estate la situazione è sotto controllo e molti dicono in autunno sicuramente la situazione peggiorerà forse ci sarà un nuovo lockdown finché non avremo un vaccino o una sorta di soluzione taumaturgica calata dall'alto non ci non risolveremo mai non risolveremo più la situazione io volevo chiedervi qual è il vostro pensiero su questo su questo tema sul su quello che stiamo vivendo allora partirei dal dire che l'idea è di proporre molta più attenzione al terreno molta più attenzione al terreno e quindi a quello che normalmente viene chiamato potenziamento delle difese immunitarie e a tale proposito vi davo mi ero organizzata per dare dei numeri perché a volte i numeri fanno la differenza e se noi pensiamo all'attività fisica l'attività fisica che in Italia forse circa il 50% non fa in misura adeguata diciamo così la corsa riduce del 40% la mortalità e riduce ancora di più le morti da infezioni e è associata a una minore incidenza batterica allora di infezioni batteriche scusate che a noi adesso l'infezione batterica non ci interessa perché l'argomento è un altro ma capire che ha anche una grande influenza sulla sistema salute che poi è in grado di difenderci da situazioni di aggressione è fondamentale uno pensate alla riduzione che può dare la frutta secca normalmente anche questa è estremamente sottovalutata pensate 20-28 grammi al giorno di noci mandorle pistacchi riduce oltre il 20% la mortalità totale e fino a 4 volte la mortalità per malattie infettive ma proviamo prima io accennavo al fumo e il fumo cioè se la riduzione del fumo o facciamola al contrario aumenta le infezioni sono più gravi e ci sono oggi cominciano a esserci dei dati anche sul covid ma sono troppo complessi e non avevo appena ce l'abbiamo ti prometto Paolo che te li giriamo ma i cereali integrali fanno questa cosa e quindi l'obiettivo è ridurre la fragilità noi abbiamo visto che sono morti di più le persone che avevano una condizione di plurifattori perché non necessario perché molte cose forse dobbiamo approfondirle bene perché magari anche se non ci fosse la patologia in atto ma magari c'erano già dei fattori predisponenti importanti quello che quel signore forse primo non mi ricordo che aveva fatto con la febbre non mi ricordo se la partita a calcio vi ricordate aveva fatto moltissima attività fisica non è quella l'attività fisica consigliata che uno ha la febbre si va a fare la partita a calcio e poi magari fa la maratona adesso non ricordo qual era di preciso l'intensità ma l'intensità è moderata quella è l'intensità che protegge se io vado quell'altra invece è un'intensità che non viene non deve essere considerata protettiva ma anche come prima dicevamo quelli che erano le abitudini di Okinawa in realtà sono abitudini che proteggono anche l'individuo ma anche nei confronti di una situazione di questo tipo mi interessava anche parlare della febbre noi abbiamo fatto non so se lei seguite Paolo dei convegni che si chiamano Infosalus e abbiamo approfondito molto nella prima abbiamo approfondito molto anche con con la presenza del dottor Alberto Donzelli l'argomento febbre perché la febbre è uno strumento estremamente efficace estremamente efficace che è una difesa dell'organismo e ci sono oggi tanti dati che parlano di quanto bloccare la febbre possa non essere la strategia ottimale poi ci sono fasi diverse situazioni diverse se non vuole essere ma vorrei sottolineare che è un meccanismo di difesa e non un nemico e se noi mettiamo il corpo nella possibilità di lavorare bene abbiamo anche gli strumenti per poter far fronte alle difficoltà e un altro strumento importante che penso che venga sottovalutato tantissimo è la resilienza se davanti alle situazioni noi facciamo veramente spaventare tutti quanti anche questo effetto nocebo deve essere considerato deve essere valutato se pensiamo che un anziano chiuso in casa da solo di 80 anni che non può più vedere la figlia è la strategia migliore non sono in grado di dire se lo è o non lo è penso che sia importante valutarlo e oggi sicuramente ne avremo i dati perché in situazioni di grande difficoltà sono state famiglie famiglie magari che sono molto conflittuali c'erano delle persone insomma tante sono le cose tante sono le cose che possiamo fare essere delle persone più capaci di vivere più capaci di rispettare l'ambiente non dobbiamo dimenticare che se non la smettiamo di inquinare il pianeta mi sembra che sia abbastanza evidente oggi la relazione tra una debolezza maggiore e un inquinamento maggiore ma non possiamo non vedere che abbiamo una riduzione importante anche delle infezioni al diminuire dell'utilizzo di proteine animali dobbiamo riuscire del consumo di proteine animali dobbiamo riuscire ad avere una visione più sistemica e a cambiare abitudini quotidiane una cosa non so se magari può essere interessante che è molto conflittuale adesso però non so se c'entra è riflettere anche magari sull'uso della mascherina che adesso abbiamo parlo della mascherina all'aperto che non è che per forza cioè anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità quello sulla qua sul quale riflettere secondo me è il fatto che la mascherina se aumenta l'umidità se l'aumenta aumenta la possibilità di questo virus di permanere e quindi aumenta indirettamente consente un terreno di sviluppo di maggiore carica in più se io non facilito l'espirazione e quindi rintroduco quello che ho eliminato la mia condizione è che continuerò a riportare dentro quello che è una condizione di carica maggiore se in più resto respirando male e quindi aumento e quindi faccio un'iperventilazione qual è il rischio ipotetico che vada giù ipotetico dico perché non è che ci sono gli studi che ci dicono ma a ragionamento si può pensare che vada giù di più e quindi che non venga fermato dalle mie barriere primarie ma che vada nel polmone dove non c'è una difesa primaria così efficace e quindi ragionare più approfonditamente senza schieramenti poco ragionevoli ma mettendo al centro l'uomo mettendo al centro l'uomo credo ci siano dei problemi di connessione adesso sì Milena mi sentite adesso sì perché mi hanno richiamato Federico se mangi a mia figlia dimmi di smettere di chiamare mi fa un piacere perché se lo scrivo io non ci riesco Milena ci senti o Federico volevi integrare anche tu mi aiutate sì 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 vi sento magari chiedo a Federico se ci segue un po' dell'integrazione rispetto a quello che diceva ci dicevamo anche prima di un documento importante a cui anche della rete sostenibile salute se ci vuoi dare un tuo contributo su questa domanda sul quello che quello che per esempio è un documento che è stato diffuso recentemente la rete sostenibile salute di cui noi facciamo parte recentemente abbiamo chiesto di far parte come l'Human è proprio un documento sull'efficacia delle vaccinazioni anti-influenzali e sulla questione dell'obbligatorietà di questo tipo di vaccinazione non voglio entrare nel merito perché non ho competenze per poter parlare di questo non sono non sono medico però quello che invito a fare è andare a vedere questo documento che è apparso anche su quotidiano sanità e cercare appunto come diceva Milena prima di avere un atteggiamento che non sia quello del tifo da stadio dove ci sono due curve contrapposte e che sul tema dei vaccini sappiamo bene che si formano in un attimo ma riuscire a mantenere consapevolezza ragionevolezza e cercare di analizzare i dati scientifici con l'aiuto appunto dei professionisti ma cercare di ragionare con il buon senso possiamo utilizzare il buon senso per capire qual è la cosa migliore da fare quindi questo appunto tema lanciato la lette sosseguita salute così come la lettera che abbiamo inviato al governo Conte rispetto alla strategia di uscita da questa emergenza così come tanti altri stimoli che stanno arrivando sono importanti è importante che si crei questo movimento trasversale che spinga affinché ci sia un reale cambio ti faccio un esempio rispetto a quello che diceva prima Milena secondo me è molto importante l'accendo che facevi rispetto all'autunno cosa succederà in autunno non lo so cosa succederà in autunno se ci sarà un altro lockdown le informazioni che arrivano in cittadini obiettive devono essere informazioni che come diceva Milena in cui poi si crea questo confronto con il virus deve esserci una preparazione differente noi abbiamo proposto al governo tra le varie proposte concrete di fare una sorta di canale youtube e canale televisivo dedicato per arrivare in tutte le case dei cittadini italiani e dare dei semplici indicazioni quelle che diceva Milena prima facciamo l'esempio della frutta secca che è pochissimo conosciuta poco conosciuta in termini di qual è il valore che può avere nella nostra salute sono tutte piccole informazioni di cose che ognuno può fare anche in casa anche in un ipotetico futuro lockdown e che sicuramente possono migliorare la salute dei cittadini il clima di anni ci sono si è generato in tantissime persone durante il lockdown non ha sicuramente favorito questo la preparazione nei confronti di un possibile attacco virale di qualsiasi genere e sicuramente non ha favorito la qualità della vita noi durante il lockdown forse non lo sai Paolo ma Davide Pirovano ma ha detto di Milena ha fatto un'operazione splendida ha iniziato a fare dirette di meditazione tre volte al giorno su facebook per tutto il periodo del lockdown proprio per agganciare persone dare uno strumento molto semplice che è quello della meditazione per cercare di gestire questi stati di ansia che molte persone stavano vivendo in quel momento abbiamo visto persone veramente che hanno ringraziato e hanno utilizzato in modo positivo questo semplice strumento Federico ok abbiamo un po' di problemi di connessione scusateci credo Federico stia stava accennando all'importanza anche di una diverso modo di una diversa strategia di affrontare un po' il lockdown non legata solamente al insomma a una comunicazione legata solamente al pericolo ma anche a stimoli di contrasto e peccato adesso qui in finale sono un po' di problemi di connessione va bene è bello della diretta questo e eravamo comunque giunti quasi a conclusione della nostra quinta puntata di a tu per tu e non so se Milena ci senti? mi senti? non ti vediamo ma ti sento si ci sentiamo che ne sono scompare non sei qui in video però ecco niente ci sono stati un po' di problemi di connessione qui alla fine ma volevamo ringraziarvi per il vostro contributo molto prezioso a questo tema e insomma è stata una puntata interessante ricca di stimoli e vi ringraziamo tanto per il vostro contributo io Paolo ti ringrazio tantissimo e se mi permetti volevo solo aggiungere una piccola cosa perché strategie durante lockdown che speriamo non ci sia però volevo condividere con te e con tutti quelli che ascoltano un progetto di empowerment molto forte che è stato fatto nella Coreglia del nord e in questo caso è stato fatto per le patologie cardiovascolari però che sappiamo essere uno di quei fattori giusto che potrebbero essere maggiormente che possono mettere scusami ho rimbombo nell'orecchio ma che mettono le persone in una condizione di maggiore rischio e volevo darti questi dati vorrei terminare con questi dati perché questo è uno studio eccezionale dove tutti assieme tutti assieme l'informazione ma tutto no cosa hanno fatto hanno aiutato i cittadini ad essere più consapevoli di quello che loro per primi potevano fare e pensa che cosa straordinaria i livelli dei fattori di rischio della popolazione si sono ridotti in un modo importantissimo il tasso di mortalità per malattie coronariche aggiustate per età nella popolazione maschile di età compresa tra i 30 e i aspetta bene perché qua con gli occhiali devo 64 anni si è ridotta dal 1970 al 95 del 73% che non è un numero qualsiasi Paolo cioè è una cosa sorprendente cioè non stiamo scherzando cioè non è che diciamo ah beh ne sono morti due in più o due in meno è una cosa sorprendente allora questi signori intelligenti e motivati l'hanno rifatta questa cosa allora e nel dal 72 al 2014 la mortalità per eventi cardiovascolari si è ridotta dell'84% allora noi possiamo dire che ognuno di noi può fare la differenza perché è chiaro che anche quando produco una salute migliore è vero anche che inquino meno l'ambiente perché la mia salute mi consente di vivere normalmente senza bisogno di grandi supporti farmacologici e questo ha un impatto riduzione ridurre la farmacodipendenza significa migliorare l'ambiente nella quale poi noi viviamo e quindi che insieme mi auguro veramente con tutto il cuore che insieme riusciamo a fare quello che hanno fatto loro in Finlandia e sono riusciti a convincere a motivare a stimolare le persone a fare meglio e ti ringrazio tantissimo per averci dato questa opportunità meravigliosa Paolo noi ringraziamo voi Milena grazie mille anche di queste preziose aggiunte finali qui in sovraimpressione non so se ci vedi soprattutto per le persone a casa che ci stanno seguendo abbiamo il sito internet che vi ricordo salusnetwork.eu dove potete approfondire vari temi che abbiamo trattato oggi e soprattutto in linea con quello che ci diceva Milena alla fine cosa potete fare per entrare a far parte della rete o per sostenerla e aiutarla ad aumentare le attività e con questo vi saluto di nuovo Milena e saluto di nuovo Milena e Federico vi ringrazio per averci seguito queste cinque puntate di A2x2 e ci rivediamo insomma a settembre adesso andiamo in pausa per il mese di agosto in ferie e ci rivediamo a settembre con altri approfondimenti riguardo i tempi d'Italia che cambia vi auguro una buona serata grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti